Con quasi 8 kg pro capite nel 2020, la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in Toscana ha sfiorato il tetto delle 30.000 tonnellate, dati quelli diffusi dal centro di coordinamento RAI che vedono la regione al primo posto nell'area centro Italia e che restituiscono la misura dell'impegno crescente di cittadini, amministrazioni pubbliche e imprese su un tema strategico come quello della corretta gestione delle apparecchiature tecnologiche a fine vita. Risultati quelli della Toscana ai quali negli ultimi 4 anni ha contribuito il progetto LifeWe finanziato dalla Commissione Europea con 18 milioni di euro e nato con l'obiettivo di incoraggiare i cittadini ma anche gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni a gestire con maggiore attenzione la raccolta dei RAE. Il progetto ha portato a accendere riflettori su rifiuti elettronici. Nel corso di questi 4 anni siamo riusciti a mettere in piedi un ecosistema di iniziative ed attività rivolte a tutti questi soggetti, quindi iniziative di educazione ambientale per i bambini delle scuole primarie e per i ragazzi delle scuole superiori, seminari di informazione rivolte alle imprese per gestire correttamente i RAE, corsi di sensibilizzazione rivolte alle pubbliche amministrazioni per potenziare le iniziative e le campagne di comunicazione rivolte ai cittadini. Tra gli strumenti messi in campo nei 4 anni di LifeWe, seminari formativi per gli operatori pubblici e privati, un'app per aiutare i cittadini a individuare centri di raccolta comunali ma anche una guida alla corretta gestione dedicata a distributori, venditori, installatori e centri di assistenza tecnica, assieme a un software, circola RAE, per semplificare le procedure amministrative legate a moduli, schedari e documenti di trasporto. Insomma, informazione al cittadino ma anche supporto agli operatori della filiera, come rivenditori e installatori di apparecchiature elettroniche che possono dare un contributo importante alla corretta raccolta dei RAE ma che spesso vengono scoraggiati o indotti in errore da procedure burocratiche non sempre semplicissime da gestire. E forse non è un caso che nel 2020 la Toscana figuri come una delle regioni dove è stato maggiore il coinvolgimento degli operatori della distribuzione nella fase di raccolta degli elettrodomestici a fine vita. Secondo il centro di coordinamento, infatti, il 20% di tutto quanto correttamento avviato a trattamento nel 2020 è passato proprio attraverso i canali della distribuzione. Quello che noi possiamo aver contribuito a fare è sicuramente quello di aver fatto arrivare l'informazione di base sulla corretta modalità di gestione dei RAE a tutti i soggetti che in qualche modo si trovano quotidianamente a dover avere a che fare con questa tecnologia di rifiuti in primis i distributori, anche perché i documenti burocratici sono molteplici, spesso non li conoscono accuratamente. Insomma, un autentico ecosistema sostenibile, quello messo a punto nell'ambito di LifeWi grazie al coinvolgimento attivo di tutti gli attori della filiera, un modello replicato con successo anche in Spagna. Alcune di queste azioni sono state adattate e replicate in Andalusia. Sicuramente questa collaborazione ha aiutato vicendevolmente a mettere a punto un proprio ecosistema di azioni, così mi piace definirlo, il progetto LifeWi, perché è veramente un mettere in campo in parallelo una serie di azioni che vanno a intercettare differenti target per riuscire a sensibilizzare contemporaneamente sulla tematica tutti i differenti attori che devono muoversi per far sì che il sistema funzioni.